Vi è piaciuto il nuovo format? Quello che prendo due squadre, le metto a confronto, vado a creare la formazione migliore unendo i giocatori di entrambe le squadre e poi andiamo a vedere ogni singolo giocatore quanto presumibilmente potremmo pagarlo all'asta? Bello vero? E allora oggi seconda puntata, metteremo a confronto le due squadre che si sfidano nel derby d'Italia quindi Inter contro Juventus come attraverso il portale Fantalab c'è l'applicazione, c'è il sito, insomma una suite completa per prepararvi all'asta, dunque il pre-asta, dunque questi giorni qui per l'asta e per il post-asta dunque schierare la formazione per tutte e 38 le giornate ci sono i consigli di tutti i maggiori creator d'Italia e dunque anche i miei abbonandovi a Fantalab dal link qui sotto in descrizione solo 9,99€ per tutto quanto l'anno potete scaricare le nostre fasce, i nostri slot, i nostri consigli, le nostre note e di più potete fare l'unione tra il mio canale YouTube, quindi gli abbonati al mio canale YouTube che pagano solo 99 centesimi al mese e dunque con meno di 2€ avete il canta in versione completa e poi vi ricordo che per questo format useremo il listone della gazzetta dello sport dunque di Fantacampionato, perché? Perché dobbiamo prepararci anche a Fantacampionato vi siete iscritti a Fantacampionato? Ancora no? Allora fatelo attraverso il link qui sotto perché potrete entrare nel magico mondo del Fantacampionato Creators Cup cioè potrete sfidare i 50 creator più grandi d'Italia e ci sono anch'io, potete sfidare anche me e nelle prime 5 giornate verrà stilata una classifica tra i migliori 50 creator e tra i migliori 50 creator più voi e vedremo se riuscirete a sconfiggere almeno qualcuno di noi a me no ovviamente perché sono il più forte di tutti vi ricordo Fantacampionato, il link è qui sotto in descrizione ed allora andiamo a vedere Inter contro Juventus facciamo questa ipotetica formazione eccoci qua su Fantalab, iniziamo dal portiere il portiere per l'Inter è un problema perché? Perché al momento abbiamo Di Gennaro l'Inter sta testando Di Gennaro e Stankovic in questo precampionato ma poi lì bisognerà fare qualcosa non in un portiere ma in due portieri nel titolare e nella riserva dunque al momento la sfida tra Di Gennaro e Szczesny è assolutamente impari ma anche andando a spulciare i nomi che sono in orbita Inter dal Dibu Martinez a Sommer che ce l'ho avuto anno scorso in Euroleague non è che abbia fatto una stagione, una metà stagione e in questa sbanta al Bayern Monaco io dico che preferisco Szczesny dunque Szczesny il portiere preferito tra queste due squadre Braccetto di destra posso mettere a confronto le due squadre perché fanno appunto il 3-5-2 dunque è facilmente confrontabile qualsiasi ruolo della rosa Gatti contro Fantalab da Bissek titolare al momento io credo che lì il titolare sia Darmian tra Bissek e Gatti forse preferirei Gatti Gatti che tra l'altro secondo me ha poco hype in questo momento un giocatore assolutamente prendibile nelle aste certo che la coppia Bissek-Darmian secondo me è superiore a Gatti dunque visto che credo che in quel ruolo lì ci sia Darmian io metto Darmian nella mia formazione ideale Difensore centrale Bremer contro Acerbi Fantacalcisticamente secondo me non c'è storia per me Bremer è un primo slot al contrario di Acerbi che invece è un pochino più sotto e dunque metto Bremer Braccetto di sinistra tra Danilo e Bastoni sempre Fantacalcisticamente parlando ricordiamo è una formazione best per quanto riguarda il Fantacalcio tra Danilo e Bastoni anche qui il mio preferito è Danilo sì quindi metto Danilo nella mia formazione ideale al momento stiamo 3-1 Juventus per bacco andiamo a vedere gli esterni esterno di destra UEA contro Danfries per quanto Danfries non abbia vissuto la sua miglior stagione la scorsa stagione io su UEA visto anche lo storico un giocatore che non porta molti bonus e dunque metto Danfries sì esterno sinistro Kostic contro Di Marco anche qua credo che non ci sia storia gli esterni dell'Inter secondo me sono più forti degli esterni della Juventus più appetibili Fantacalcisticamente degli esterni della Juventus quindi metto assolutamente Di Marco andiamo a vedere il centrocampo qua vi volevo voglio partire dal centrocampista di sinistra sono difficilissime troviamo Frattesi a sinistra io credo che lì invece giochi Barella ma basiamoci su Fantalab Frattesi contro Rabiot qua partono le polemiche qua partono le polemiche abbiamo visto il Rabiot dello scorso anno con Allegri Frattesi per me adattissimo al gioco dell'Inter ma al momento è tra virgolette un'incognita io ragazzi tra Rabiot e Frattesi scelgo Rabiot sì Rabiot centrocampista centrale Cialanoglu contro Locatelli qui credo che non ci sia storia anche in visione del fatto che Cialanoglu potrebbe essere il rigorista dell'Inter e dunque fantacalcisticamente due appeal totalmente diversi e metto Cialanoglu centrocampista di destra Barella contro Pogba oh mamma mia lo sapete io l'amore calcistico che ho per Pogba ormai se mi seguite lo sapete benissimo secondo me sarà il crack di quest'anno Pogba ma al momento visto che Pogba non ci dà assolutamente garanzie mentre Barella ce ne dà e come di garanzie a malincuore metto Barella stiamo 5 a 4 Inter più difficile di quanto pensassi attaccanti Vlaovic contro Turam le prime punte Vlaovic non viene della sua miglior stagione è stata un pochino la delusione la grande delusione non un pochino la grande delusione dello scorso fantacalcio certo che al momento potessi prendere Vlaovic o potessi prendere Turam io andrei su Vlaovic 5 pari 5 pari l'ultimo nome decide anche questa sfida Chiesa contro Lautaro Martinez beh credo che in questo momento non ci sia veramente storia Lautaro è uno dei top del fantacalcio di quest'anno e dunque metto Lautaro 6 a 5 Inter ed allora andiamo a vedere le due squadre più nel dettaglio andiamo a vedere l'Inter e la Juventus ma a proposito di Juventus vi ricordo che venerdì alle ore 18 ci sarà il Lorenzo Cantarini show andremo a parlare delle vostre aste andremo a parlare delle mie fasce e delle mie slot andremo a parlare di quanto pagheremo ogni singolo giocatore durante l'asta ed in più vi ricordo che metterò in palio per gli abbonati e solo per gli abbonati non sono mai pronto a farlo ma eccola qua la nuova maglietta della Juventus gentilmente offerta da calciostore24.com il negozio online di magliette sportive più belle ed economiche del web oltre tutte quante le nuove magliette della serie A potete trovare anche le magliette della Premier League della Liga della Bundesliga e anche magliette particolarissime sapete ormai della storica maglietta di Spider-Man del Paris Saint Germain ma guardate questa quant'è bella la maglietta di Stella McCartney dell'Arsenal un pezzo unico che potrete trovare soltanto su calciostore24.com mettendo come codice sconto LC avrete un ulteriore sconto del 10% sul prezzo d'acquisto già basso dunque questa maglietta costa meno di 30 euro togliete il 10% veramente la pagate poco più di 20 euro calciostore24.com il link lo trovate qui sotto in descrizione ed eccoci allora su Fanta Lab fasce giocatori scrivo Inter mi dà tutta quanta la lista dei giocatori dell'Inter divisi per ruolo ed allora andiamo a vedere portieri di Gennaro ho messo prezzo un credito ovviamente 0,2% del budget vedremo poi chi sarà il portiere titolare dell'Inter dunque passiamo direttamente ai difensori ed eccoli prima fascia primo slot di Marco che secondo me andrà attorno al 10% dunque 50 crediti su 500 secondo me secondo soltanto a Teo Hernandez giocatore che si è riuscito a prendere ovviamente è da prendere a tutti i costi andiamo in seconda fascia troviamo sia Bastoni e sia Dunfris io ho messo Dunfris nelle mie fasce più su di Bastoni ma secondo me Dunfris andrà ad un prezzo minore per Bastoni potrebbe bastare il 4,5% all'incirca per Dunfris secondo me attorno al 3% riusciamo a portarlo a casa e potrebbe essere un ottimo affare terza fascia troviamo troviamo sia troviamo mi è venuto fuori lo diesino in me troviamo sia Darmian sia Cerby ricordiamo che Darmian è in ballottaggio al momento con Bissek ma Darmian può sostituire anche Dunfris insomma fare l'accoppiata Darmian Dunfris potrebbe essere un'idea non molto sbagliata li portiamo a casa entrambi con un budget attorno al 5% potrebbe sistemarci la difesa in maniera incredibile per quanto riguarda Cerby invece data l'età l'hype non è altissimo e dato il ballottaggio con De Vrij che ho messo tra l'altro nelle scommesse si può portare a casa attorno all'1,5% 2% De Vrij invece secondo me con un'aste intelligente chiamandolo tra i primi nomi lo potete portare a casa con un credito solo perché non credo che la gente tiri i vostri avversari vadano a tirare un'asta per De Vrij su Bis che invece ancora non mi sono espresso secondo me al momento non rientra nelle prime quattro fasce quando andrò ad implementare le altre fasce probabilmente gli troverò collocazione ma al momento lascio il mio giudizio un pochino in sospeso andiamo a vedere i centrocampisti top reparto sia Barella sia Frattesi secondo me tutti e due partono attorno all'8% ora l'ho detto il mio preferito al momento è Frattesi perché dovrebbe giocare nel suo ruolo naturale quello di centrodestra mentre Barella dovrebbe spostarsi sul centrosinistro ormai lo sapete ci ho fatto video su video ril su ril però voglio vedere appunto come gioca l'Inter durante il precampionato per vedere poi su chi converrà puntare tra Barella e Frattesi seconda fascia ho messo Cialanoglu è vero che dovrebbe giocare da mediano ma questa storia che potrebbe essere il rigorista dell'Inter a me sinceramente mi garba non c'è tantissimo hype su Cialanoglu visto che retrocede il suo raggio d'azione e si può portare a casa attorno al 5% che per un centrocampista quali sono previsti 4, 5, 6 gol sinceramente è un prezzo per me molto godurioso andiamo in quarta fascia troviamo Mkhitaryan Mkhitaryan è un giocatore che al momento ha pochissimo hype non se ne sente parlare per niente secondo me può essere un acquisto azzeccato perché l'Inter ovviamente avrà la Champions punterà ovviamente sulla Champions dopo la stagione scorsa dunque Mkhitaryan potrebbe giocare tantissime partite durante la stagione un giocatore che comunque sia va molto spesso a reperto sul tabellino e si porta a casa con un 2,5% potrebbe essere molto interessante anche qua non prendo posizione al momento su Quadrado perché la situazione di Quadrado è molto particolare giocatore che dalla Juventus passa all'Inter una squadra una tifoseria che l'ha sempre tra virgolette odiato calcisticamente parlando voglio vedere come si comporterà nella sua nuova realtà ed andiamo ora all'attacco dove ovviamente troviamo in prima fascia primo slot la Taro Martinez e io credo che il suo prezzo vada attorno al 38% dunque 190 crediti su 500 secondo solo Aosimen investimento importante ma un giocatore che è una sicurezza un pochino altalenante però è vero che il suo bottino di gol a fine stagione ve lo porta sempre in cascina ho messo in terza fascia Turam una spesa attorno al 10% dunque 50 su 500 crediti al momento ancora l'Inter non ha preso un'altra punta centrale da affiancare a Turam dunque al momento Turam è il centravanti titolare dell'Inter una scommessa una scommessa io non ci andrei a puntare più del 10% poi probabilmente in molte leghe andrà oltre al 10% secondo me potrebbe sfiorare anche il 18% ma lì secondo me è veramente una scommessa molto rischiosa per il resto non ho preso posizione su Correa giocatore sempre molto interessante perché resta sempre uno degli ultimi nomi all'asta uno dei riempilista anno scorso ha fatto veramente male nulla toglie che quest'anno possa aumentare il suo bottino di gol avere un attaccante come Sesso Slot che ti porta a casa 5-6 gol diventa godurioso anche perché magari verrà schierato nelle partite più semplici dell'Inter e lì può fare veramente la differenza e vi ricordo ovviamente che su Fanta Lab c'è anche il tastino in porta fasce dei creators se siete abbonati a Fanta Lab se siete utenti pro 9,99€ per tutta quanta la stagione calcistica potete importare le nostre fasce in questo momento è importante se ci seguite se ci date fiducia avete tutta quanta la nostra visione del Fanta Calcio tutto quanto il nostro studio che facciamo giornalmente a portata di click e andiamo allora la Juventus portieri scesi il top reparto uno dei top reparto insieme a Meretta e Magnan si porta a casa credo attorno al 12% anche qua un investimento importante io vi ripeto se scegliete un portiere come Scesni se lo spagate il 12% ovviamente vuol dire che puntate forte sulla porta della Juventus inutile andare a spendere altri crediti sul terzo portiere un 3% un 4% per il portiere del Verona piuttosto che dell'Udinese ma prendete il blocco portiere della Juventus visto che già Perin da secondo lo andrete a pagare prendete il blocco portiere della Juventus metteteci pinsoglio e poi ciao state tranquilli avete la porta alla Juventus per tutte le 38 giornate andiamo ai difensori Danilo e Bremer due difensori da prima fascia secondo me due top reparto più Danilo di Bremer secondo me ricordiamo che la Juventus o non avrà le coppe o al massimo avrà la Conference League dunque darà molto peso al campionato dunque in Conference turnover dunque i giocatori i top della Juventus giocheranno tutti quanti in campionato dunque non siamo a rischio turnover quindi per Danilo siamo attorno al 7% per Bremer un pochino più bassi 6 e 2 ma presto a poco staremo lì per il resto non ho messo nessun altro difensore tra le prime fasce io ho ancora dei dubbi su Gatti io ripeto Gatti lo andrei a prendere voglio vederlo durante le amichevoli precampionato per poi decidere la Juventus lì probabilmente farà qualcosina non credo arriverà un colpo entusiasmante credo che Allegri voglia puntare su Gatti un giocatore anche da bonus ripeto non non l'ho messo al momento tra le prime quattro fasce ma nulla togli che da qui alle prossime settimane possa essere inserito in una delle fasce superiori e appunto se mi seguite su Fantalab oppure mi seguite su Youtube ne andremo a parlare andiamo a vedere i centrocampisti Rabiot top reparto dopo la stagione entusiasmante dello scorso anno 8 gol 4 assis ma per Bac un top reparto assoluto ho messo come vedete qua ci sono anche gli indici titolare 5 sicuro perché con Allegri gioca sempre come sicurezza ho messo 3 cos'è la sicurezza? la sicurezza è che faccia la stagione dell'anno scorso è un giocatore che ti dà una continuità di rendimento per tutto l'anno Rabiot la dà la continuità di rendimento il Rabiot dell'anno scorso ma il Rabiot è il Rabiot dell'anno scorso o il Rabiot dei 2-3 stagioni fa? io sono sicuro che sia il Rabiot dell'anno scorso detto questo ovviamente è un piccolo rischio da prendersi comunque se il Rabiot è un altro giocatore che come frattesi come Barrella partirà attorno all'8% seconda fascia troviamo sia Chiesa che Pogba e anche loro sono due scommesse perché? perché Chiesa al momento potrebbe giocare seconda punta e sarebbe un bug dell'istone assurdo ma potrebbe anche fare turnover come esterno dell'attacco a tre o addirittura giocare esterno di centrocampo e giocarsi il posto con UEA però ovviamente Chiesa non è che parte a pochi crediti lo pagate il 5% se chiedete su Chiesa credo che il prezzo sia quello potrebbe essere un prezzo di saldo come il 5% che buttate in un giocatore che poi non è titolare stesso discorso per Pogba un Pogba al pieno della forma per me è un top reparto da prima fascia primo slot in questo momento con questa piccola incertezza di Pogba quando ritorna ancora ritorna non ritorna se ritorna non lo sappiamo sicuramente un giocatore che nelle aste verrà chiamato e sicuramente un giocatore che verrà pagato non quanto vale integro ovviamente quanto vale in questo momento incertezza dunque credo che attorno al 4% lo potete portare a casa in quarta fascia ho messo sia Fagioli che Kostic su Kostic sono stato un pochino basso lo ammetto un giocatore comunque con una fantamera del 6.6 al centrocampo è sempre un ottimo giocatore ma un giocatore che secondo me andrete a pagare all'asta più del suo reale valore fantacalcistico io lo pagherei attorno al 2% ma non credo che parta attorno al 2% non ho quotato Locatelli al momento perché fantacalcisticamente è un giocatore che non mi attrae così come UEA voglio vederlo nelle amichevoli precampionato ed andiamo a concludere con l'attacco dalla Juventus dove troviamo Vlaovic in seconda fascia la prima fascia l'abbiamo già detto è fatta da Osimene Lautaro e Immobile in seconda fascia troviamo il lotto delle seconde punte dalle Alvaraschelia Di Bala Berardi più Vlaovic che è un top reparto assoluto ma purtroppo pesa la stagione scorsa dove è stato uno dei grandi flop del fantacalcio però credo che meno del 24% ma a tenermi buono non riuscirete a pagarlo in quarta fascia ho messo Milik giocatore al momento un po' ambiguo perché? perché tutti danno chiesa a titolare come seconda punta accanto a Vlaovic dunque dovrebbe essere la riserva di Vlaovic dunque quarta fascia è la riserva di Vlaovic detto questo credo che non lo pagherete poco l'ho messo attorno all'8% e potrebbe essere un 8% rischioso potrebbe farvi la stagione discreta dell'anno scorso se non ci fosse stato l'infortunio per me sarebbe stato una stagione la seconda fascia avrebbe fatto aveva fatto comunque sia sette gol un'assist una stagione buona per un giocatore che non era dato titolare che avete pagato relativamente poco nelle aste al momento credo che meno di 40 crediti su 500 non andrete a pagare per il resto l'attacco alla Juventus c'è Ken giocatore secondo me da prendere a 1, 2, 3, 4 crediti massimo perché poi il suo minutaggio è sempre relativamente scarso e ripeto con la Juventus che punterà sul campionato e non sulle coppie europee ovviamente lo spazio di Ken in campionato sarà molto basso si conclude qui il video per quanto riguarda la sfida The Choice tra Inter e Juventus fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete d'accordo con la mia analisi del top team venuto fuori dall'unione delle due squadre se siete d'accordo sulle mie fasce sulle mie slot e sulle quotazioni che ho dato vi ricordo che le quotazioni sono prese da Fanta Campionato e la Gazzetta dello Sport iscrivetevi qui sotto a Fanta Campionato perché ci sono oltre 2000 premi più di 300.000 euro di Montepremi totale a disposizione dei Fanta Allenatori e in più potrete sfidare noi Creators al Fanta Campionato Creators Cup e non capita tutti i giorni di poterci sfidare in un Fanta Calcio e poi ci sono un botto di giochini ci sono perché c'è il Fanta Duello c'è il Fanta Market insomma una suite della Gazzetta per quanto riguarda i giochi assolutamente goduriosa nel frattempo un saluto dal secondo divano più famoso del web se hai capito la battuta 6-1-Zozzoni A presto